Oh, e questa l'ha colpita Perfetto La terza è sempre quella buona Adesso è cazzatissimo E quindi Ok, mi guidano dove non devo andare Praticamente Occio, è qua Occio Occio Perfetto Che cappe lo devo fare Mollami Bababia Ma che livello tutto pazzo che hanno fatto Permesso, permesso E no, me devo prendere le rotate Oh, forse no No, c'è ancora sta strada Per fortuna Non andare in mezzo Però è la prima volta che vedo Che il nemico ti fa la telecamera Sul tuo personaggio È strana sta cosa Ah, meno male che c'è il checkpoint Ho capito, ma devo andare avanti o no? Andiamo di qua? Non lo so Ah Qua, suppongo Ok Ok, ok Buono, buono, buono Così Andiamo di qua? No Dove cazzo devo andare? Di qua Basta che ti decidi Il gioco A me fa lo stesso Do Cosa è successo? Dove? Che cazzo? No Questa non l'ho capita Ma prima sono andato di là Ah, non devo solo Non devo semplicemente uscire dal confine Sì, però Tu sei anche un po' pazzo, eh Lo posso dire Di qua, di qua Devi girarti Devi girarti Ma vai di là Niente Devo togliermi e rimettermi Non ce la può fare Se no Dammi gli scalini Vai così Vai, vai, vai Perfetto 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 Tutto sto casino per arrivare solo sopra Ce l'abbiamo fatta Ridendo scherzando Ah, si ricomincia Ma non di là Ah, no È solo quando aspira Adesso sta aspira Eh, va bene Perfetto Sarebbero due scatole Non so se hai notato Però Pfff, pocio E dammi una scatola È finito Ok Oh, ma rilevi che ti ho Sfuntato un po' di chiodi No, non lo rileva Ma che palle Oh, ma pure gli animali Oh, è questa Meno male Meno male Così, così Oh, ma È capito È da una parte C'ho le mani Dall'altra Mi colpisce Che devo fare Così È capito Ma Niente Non Colpiscilo Perfetto E si Continua Di nuovo Ma è tutto così Il gioco Bello Ok È sta roba Ma lo so Ad avanti Oh, paio A colpi di chiodi Dove hai ucciderlo Mi sta spiegando il gioco No Ma tu sei un deficiente Ma vai Avanti No Ah, ok Surf Direttamente Capisco Che cavolo Che cavolo Vuoi della mia vita Veloce 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 Ok, ok Eh, sì Ho capito Ma Non la vuole prendere Non so Sì, però Che cavoli Devi anche Da respirare Perché Oh, allora La prendi Così, così Perfetto Così Perfetto Così 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 Sì Andando avanti Tranquillamente Pieno male Che hanno messi Checkpoint Surf Vai Vai Aumenta La bolla Eh, beh Giustamente Perché sono talmente veloce Che devo aumentarla Se non muoio subito E ora Ma non l'ho neanche vista Perfetto Si parte Vai Ah Ma è diverso Au Niente Non si fa Un cazzo Io non Gli spavolo La roba addosso Non gliene frega niente Ah Ah Ho capito Ma porca miseria Bravissimo Beh Oh, bravo Si L'ho proprio Intuito per caso Perché E dai Stai calmo Ma piglialo Vai Adesso ci siamo Oh E fai sta mossa Oh Non piglia più le conchiglie Non capisco Dai Piglia sta conchiglia Pigliala No Non la piglia più Eh Non so cosa dirvi Vaga Cioè Non piglia più la conchiglia Oh Oh E ce l'abbiamo fatta Dai Un ultimo giro Comunque mi fa piacere Che le armi che ho Poi per i boss Non servono mai Eh C'è sempre Il loro pattern Ma Mitagliarli Non serve mai a nulla Poi Poi Pescia Adesso Oh Perfetto E ho sbagliato Qua si Bravo Così ti voglio Perfetto Perfetto Oh Poor little thing That poor little thing Just tried to kill me About eight different ways Infatti Well that's not its fault This was once just a normal size lungfish Minding its own business In a mucus lined air bubble beneath a semi dry legbeard But judging by the work done on it I suspect Mori has mutated it Accelerated its growth And has placed an implant in its brain Oh Poor little thing Oh 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 Yeah Go inside there and try to smash the implant Use the psycho portal I saw you steal from Sasha's lab Oh Uh Yeah That works on big scary monsters Oh monster schmonster That thing's more afraid of you than you are of it Now get in there Oh 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 Morto? Mortissimo Mortissimo Ah però quella rimane C'è un must Non è detrattata da lui Mi fa piacere Però la cosa di prima Non mi ha dato la missione Ah Salvare lì Vabbè Quella è la base Ah ma da dietro Se li entro nel survey Tipo Ma è quindi Ma è quindi Cioè il gioco non mi dà più segni di vita Non Non Conto E ho capito E ho capito Però dammi un cenno Dove vado qua? E ho capito Però dammi un cenno E ho capito Silenzio Silenzio Non diciamo nulla In questo gioco Perché non si è mai che Uno poi Potrebbe anche non perdersi Pensate È possibile che un giocatore Possa non perdersi in un gioco Se viene guidato Noi dovre Dobbiamo evitare questo Signori Non Non ce ne Dove sono andato Ok È l'aspirapolvere Eh sì E ci siamo Cos'è che cosa? Ah gli devo lanciare io la porta A fare tutto Oh Oh gioco Devi dirmi queste cose Da troppo cose per scontato Ma dai Ma come Ma come potevo Pensarci Ma va a cagare Se questa cosa Non l'ho mai fatta prima L'hanno sempre fatto automaticamente Gli altri Non posso Di giocatore Pensare che Ho una porta Nell'inventario Da usare Cioè Una follia proprio Ricordo sempre tutti Che non mangio nessuno Per esempio Parare qualsiasi cosa Guarda che già Questa è un'avventura Comunque Questa è un'avventura Sto diventando un po' picchino botto, non so se... Oh no! Gagalor sta andando per l'orfanaggio! Ah, in realtà devo distruggere tutto, proprio giusto così, perché poi ci sono i bonus. Ma come questo no? Ah! Che figata! Ah! Oh, riportezione, stai ripristinato, meno male! Ah! Oh! 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 Ok! Oh! Oh! Un'altra qualifica ai Jaunima Motta, perfetto. Ehm... 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 Usa il tuo scuro psichico per rispedire qualche attacco indietro ogni tempo, meno male. Non dura per sempre, chiaramente, e quando quella parte della tormenta si stanchava bisogna aspettare un po' per usarlo di nuovo. Al volissimo. L'orfanage! Ma... Lo scudo... No, lo scudo volevo saperlo. Ok, continuo a non sapere qual è il tasto della barriera che ho appena imparato. No. La sicurezza di Lungfischopolis è in attacco oggi di un po' di un po' di gatticino, che i raggiudati i cittadini della l'amica ha rispondato velocemente e indecisivamente, imparando la sua entiore... Autorità che dice che tutto... Il uccidio di bambini di bambini è buono. Oh c'ho Perfetto Di qua o di là? E io che cavolo ne so Lo posso anche andare in acqua? Sì Ma come non l'ho presa? Questo ragazzo ha bisogno di un duffel bag E' chiarito Ma stai buono Oh c'ho Mica posso anche accoglielo? No vabbè Sempre se non lo schiaccio prima E' mohaha Ma porca miseria Mi l'ho appena curato Ma se sono stati vicino Ma se sono stati Ma percoglielo? Ma percoglielo? Ma percoglielo? Ma percoglielo? Ma percoglielo? Oh, percoglielo? Ma percoglielo? Ho proprio fatto Ho proprio fatto Allora di là suppongo No, dov'è andare lì Oh, come se, yeah Well, things have gotten a little embarrassing for Gagalore Recently surfaced information has strongly linked the previously intense Earlier tonight, Gagalore broke some of his jailhouse cronies out of the slammer So they can enjoy a night on the town, popping pills and soliciting inexplicable robber Well, they're in for one nasty hangover Our beloved Navy has come up with a high-tech new invention Four Aspettate Minchia, un attimo E' stato e' buoni lì Oh Ah, eccolo Dove sono? Sono altissimo Vabbè, Nagu giustamente Qui qualcuno vuole morire Voilà Povera borsetta Ha perduto l'etichetta Ma dove cavolo e' L'ho incontrata prima Sono appunto in spawn veramente E non posso spaccare di nessun modo Ma Ma Quanto pare Nooo Non e' quella Come non e' quella Nooo 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 Quindi se io vado di qua No Non posso andare di qua Va bene Nooo 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 Ma Ma un attimo C'è un combattimento in corso La voce sembra quella del giornalista di Spider-Man Nooo 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 Va bene togliamo qua Nooo 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 Ah ma il posto di R2 posso metterlo aspetta Come gli dico che voglio su R2 Perfetto 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 Eh Io mi avvicino eh A questo cazzo tuoi Eh Volevi Gagalore Gagalore What are you doing down here? I'm trying to get to that Kachamara tower thing so I can smash it A laser tunnel Gagalore We have to get through that or we'll never get to Kachamara Island Eh lo so But I thought There is no I in T Gagalore Yeah but there's an I in Squish so watch it I'll go take out your laser tunnel But then we're gonna talk about who's running this revolution We're trying to get to that Kachamara tower thing so I can smash it A laser tunnel Gagalore We have to get through that or we'll never get to Kachamara Island Quindi tutto indietro Ah ok All'acqua cosa mi respingi Ma l'ho colpito Ma l'ho colpito T'ho colpito Oh, l'ho colpito Dove scapi ma dove corri? Ma doh quanti Kachamati? ma veramente ma che è il colpo all'atacombol che ti ha aggiunto ma tu mi hai detto di venire qua quanto qua la targhetta però non è la sua trova in modo per attraversare il tunnel protetto dai laser che difende la prigione e fin qua c'entra la barriera ma come faccio ad attivarla ah giustamente ma infatti perché vedevo che comunque c'era un lasso di tempo prima che venivano attivati quindi c'era il trick eh si ma si tutti a posto oh che pace arrivo eh solo mi mettere la targhetta questa deve essere giusta la forza ma pure ma basta ma che basta oh si grazie finito grazie ah è là sono dentro espan bene bene Quindi, questo grande monstre, è il meglio che puoi fare? Siamo stati corti nel tempo e è buono a smasciare cose. Non sembra molto per me. Vieni, proviamociare questo joint. Ehi, benvenuti. Scusate di lui, Gargalore. Ha stato in presenza molto tempo. È l'unico pilota che ha la resistenza. Vi metto nel damme, così possiamo mettere in acciaio. A usare il pilota. Ah, già, la cassaforte. Ma se sono il doppio, è ovvio che la prendo subito. Ah. Erano tutti felici di tranquillità. Poi arriva questo stronzo, gioca tutti e voilà. E quindi andiamo verso la diga. Perfetto. Perfetto. La diga dovrebbe essere di qua. Minchia! Perfetto. 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 Allora, le spieghiamo davanti in un'altra città. Perfetto. Sei sei mesi. D'accordo, dicevamo, ma la missione è ancora quella, usare il pilota per superare la picca, va bene. Aspetta, aspetta, vado a quanto mi fai saltare, aspetta che c'è un po' di roba qua. Voilà, vai. Minchia la prospettiva, piglialo. Ok. E mi mancava un oggetto, forse l'ho lasciato indietro, non mi ricordo, per questa targhetta. Anche se sta veramente laggando, non so se in audio torna a funzionare, ma... Pagodissima. No, questa non cade giù, peccato. Forse è quella cappigliata laggiù. Ce l'abbiamo, meno male. Non va giù. Posso stare proprio sul bordino. Voilà. Va a livello... due vite, sai che roba. No, potremmo salvare effettivamente. Cominciamo... cominciamo, eh. Oh, c'ho. E va bene. No, adesso la spacco, adesso la spacco, perché non è possibile. Ok. 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 E' finito. Ragazzi, gentilissimo. Ai-ya! Pure. Pure qui c'è il mostriciattolo... Eh, vabè, ho capito irri 싶은i. Io che ne so, fino adesso mi dici che posso camminare in acqua? ma non più pure poi ma veramente non mi piace mi piace non mi piace non mi piace io cinesi sembra che non faccia assolutamente nulla oh che puttana no intendevo avere uno non fa nulla ah ho presa perfetto ole è andata per fortuna ma veramente coatemi 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 perfetto no 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 ma va a fare un culo dai dai ma non è vero non 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 ma non 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 Boh Ma veramente Oh non è Piglialo Ma vaffan Dov'è No Ma porca miseria Finito Grazie Così Veramente così faticoso A sta parte Che mi lagga tantissimo Ma vai piglialo Ma pure Ma vai Allora Non so da che parte bisogna andare Perché comunque ci sono due cose diverse Due sagome diverse Da una parte e dall'altra E stavolta non posso tagliare dal fiume Quindi neanche quello posso fare Sì ma non è obbligatorio Spawnarne sempre un po' No No T'ho detto no Se va bene pure Mialo Ma sei cretino Minchia Hai finito Eccolo Dai sono qua Sulla nave Pazzesco Sulla nave mi ha fatto la cosa Pazzesco Ma sei serio Lo edge No Due vite Meno male Ok Mi spacco Mi spacco Mi spacco Così A post Ah ok Tutto in un casino pazzesco Ah ecco come ha fatto Oh no Oh no 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 Ehi, sei fortunato che non possiamo ottenere uccelli, Gogolore. Voilà, ce l'abbiamo fatta anche questa. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo! Ah, quei capi confusi del mondo. Abbiamo affrontato monstri come tu prima, Gogolore, solo molto più piccoli. Ahà. Ma sei serio? Ok, così. Ciao Link, benvenuto, benvenuto. Così, a verità di dimostrazione che non mangio nessuno, perché non so come mai, ma in molte live vedo gente che mi fissa in modo inquietante, senza parlare, chiacchiare tutti assieme. Non posso immagino che nessuno dei miei fan si trattano con il monstri. Lui amica tutto ciò che Lungfish importa. L'acqua, l'acqua, la famiglia, l'economia. Voi, sarai felice di sapere che la navia ha deciso di prendere quello che sono più famosi per. L'acqua! Oh, adesso si rida. BBC e non potevano hanno messo il BBC. Come va Link, raccontami un po'. Mi hai giocato a questo gioco, dimmi tutto. Gogolore, venite. Abbiamo commandeato questi strumenti in tuo nome. Possiamo mettere in posizione per aiutare il canale Cochamara, per aiutare il canale Cochamara e aiutare il canale Cochamara. La cosa è che, almeno che abbiamo la più fiducia che ci saranno presto l'area, Gogolore, Noi... 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 Noi abbiamo deciso di mantenere la nostra posizione qui. Noi anche per chi accettare il canale di tutti i hostilati. Noi. Per le risorse di insurazioni. Noi, è quello... Un po' King Kong Un po' Godzilla Facciamo un po' tutto Dov'è cavolo sono? Ebbene, forse è meglio che gli spari Tu è mio Oscar, attenzione Sì, ma tu, ma porca, sali Eccolo Ma porca miseria Dovrebbe essere distrutto anche l'aeroplano però Troppo forte, troppo forte Non so se Link mi ha sentito comunque Eccolo, aspetta Quante cose Sì, ma perché No, ma più che altro perché ovviamente il gameplay è il più stronzo del mondo Perché non è che lui salta e spara, no Con calma lui deve saltare Se atterrare Poi forse spara Ebbene, certo Devi sparare subito in questo momento, no? Visto che non dà molta tregua In questo momento Non capisco perché Devo aspettare tutti questi step In questo momento Oh, finalmente Siamo vicini di... De che? Ah, vicini alla fine, sì Più o meno, sì Eh, in realtà Ho visto che forse Siamo quasi alla fine, sì Forse Però guarda che roba Cioè, ma C'ha delle meccaniche un po' così Eh, devo dire Oh Perché Lui prima deve Deve saltare Atterrare E poi forse spara Minchia, ci sono i bombardieri Ma spara al volo Ma io non lo so Aspetta che mi arrapico qua Non so se tu conosci Il... Già il gioco Perché Io non mi ricordo esattamente Però Mi sembra che siamo a buon punto No, non ce l'ho Ma che palle Da golde Ok E quindi rimarrà senza targetta No, dai Ogni volta Sto collider Ok Ce l'abbiamo fatta Beh, magari ti è risposto il gioco La fine è vicina Dimmi un po' Necco Secondo te Questo è il giornalista di Spider-Man Per caso A te sembra la voce C'è il giornalista di Spider-Man Per caso Siamo al boss già Che so già qua come va a finire Non è dato saperlo Non è dato saperlo Diventa un picchiaduo Che succede? Ma è l'uomo mosca Tipo No, il pattern Va a capirlo Probabilmente non facciamo Lotta libera Dobbiamo avere un pattern E beh Non ho capito Ah, basta sparare Va bene No, l'ho preso io Ma poi Pazzesco Tutti sti nemici Hanno tutti la barriera E certo Per evitare Che uno spami la mossa Ah, forse devo usare la barriera Quando arrivi Perfetto Troppo forte Non l'ha neanche preso Non l'ha neanche preso Non l'ha neanche preso Ma l'ha neanche preso Ma mi sono parato Ma mi sono parato Ma mi sono parato Ma mi sono parato Ah no, l'ha neanche preso Ho preparato con R2 No, l'ha neanche preso E perfetto No, l'ha neanche preso Curami, curami Voilà Non posso più sparare Voilà Voilà. Vedatemi un po' di munizioni. Vale. Questa è fatta. Troppo forte. Troppo forte. Troppo forte. Trocca miseria. Aia aia. Chi ride. Chi ride. Quest'avanzo. T'ho preso. Ho vinto senza guardare come si faceva. Pro player. Troppo forte. E poi mi lascia sempre così il gioco. Scalare la torre per distruggere l'antenna. Ah ok. Finalmente ha spiegato cosa bisogna fare. Non fosse l'altro momento. E' un po' di entrare. si spacca tutto il gioco ah no è sempre colpa mia ok mi pareva strano finito possiamo ripartire meno male che ho salvato proprio poco prima mai lo conosco grazie a tutti dai ultimi minuti ma come ce ne sono due di salvataggi proprio questo io non faccio mai più salvataggi ah è sempre qua comunque ah no ok me l'ha fatto me l'ha messo che l'ho già fatto grazie gentilissimo perfetto sono un po' riettili giusto? perfetto 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 vado a quanto c'è a ristruggere ce la farà adesso a caricare il filmatino non ancora lui ah no, ok, va solo per fare la giga che scassi no, mi dispiace il maschilismo per me no, mi dispiace il maschilismo per me chi è questo? ma ma sa anche parlare no, meno male, qualcuno mi compresa questo gioco dimmi cosa hai fatto con il mio amico Lily con il spirito di Oblongata è fatto ogni volta il cervello c'è anche la ah no, che non è lo stomaco come se no Rasputin il nome che mi ha dato il mio amico e che nome è quello nobile linda ah no, no, no che magica boh, dai, mi sta veramente piacendo devo dire e così arriviamo finalmente alla main quest grazie mille a tutti per essere più o meno passati ciao ciao